Ciao ragazzi, bentornati insieme ai Ciccio Box, nuova parodia, sei un ufficiale perché qui c'era quella ufficialissima e ci vogliamo le persone. Sono un ragazzo di 15 anni, non sono un bambino, non sono un bambino, e ciò che prende, che fa un solo bambino, lo sta sempre tutto, è stramaggio l'intero, e se si sveglia di notte, un cacquale che metto, se mi allettrò una cucina, se la nevo di letto, voglio andare a dimasso, e se la porto sempre, avrei messo in un cassetto, metto una caranella, un piccato di carne, metto di mortellella, e sono venuti pure i campi, piegate due macchie dolore, che dolore, che dolore, che dolore, ora chiama il dottore, risponda per favore, altrimenti che fanno, che fanno, che fanno, che fanno, che fanno, e noi lo si era già cucina, mangiava una cucina, mangiava una cucina, e io ho detto, sei faccio, te sempre saluto, e se gli dico biscotto, bello un altro che notto, e percorri il salotto, sono statissimo il gatto, che si è apposito, la pace di me ne fa a me, guarda che noi cucina, e di cominciare il giro, a spasare il primo, e se le mani, e poi, non li sono venuti pure grandi, che va a me, guarda che dolore, che dolore, che dolore, ora chiama il dottore, risponda per favore, hai di niente che fanno, per favore, per favore, dottore, 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 gli sono venuti pure i grandi, pigata in due, ma chi è dolore, e non abbiamo neanche un haulin, che mal di pancia, che farò, ma chi è dolore, 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 ora guardiamo il dottore, risponda per favore, altrimenti, che farò, che farò, che farò,